Esistono molti luoghi comuni, a volte persino offensivi, sulla donna tentatrice che ispira al male. Invece c'è spazio per una teologia della donna che sia l'altezza di questa benedizione di Dio per lei e per la generazione. Cristo, nato da donna, è la carezza di Dio sulle nostre piaghe, sui nostri sbagli, sui nostri peccati. Ma Dio ci ama come siamo e vuol portarci avanti con questo progetto. E la donna è quella più forte che porta avanti questo progetto.